In anteprima la stampa è stata presentata a Tenamo l'esposizione La Camera delle Meraviglie, in programma da domani fino al 7 maggio allestita presso la caratteristica location del Castello della Monica, una mostra che presenta al suo interno una selezione di oggetti di arredo abitualmente esposti nel percorso della Casa Museo. Dopo l'enorme successo della mostra di Banksy all'Arca, oggi inauguriamo la prima esposizione all'interno del Castello della Monica, un luogo di grande valore per il nostro territorio che sta ricevendo una critica più che positiva sia dalla cittadinanza che da comunque gli specialisti del settore. Oggi qui ospitiamo la Fondazione Bagatti Valsecchi, che in qualche modo nel panorama italiano rappresenta un'eccellenza e un'esposizione che sarà visitabile fino al 7 di maggio, un lungo periodo nel quale metteremo in campo e metteremo a frutto questa sinergia, questa collaborazione più che positiva per il nostro territorio, apriremo teramo a degli scenari nazionali ed internazionali ed è questa l'ambizione che dobbiamo continuare ad avere, a coltivare e a mettere in campo per la crescita del nostro territorio. Su pellettili, armature, cassoni finemente decorati e intagliati, cofanetti in avorio formano una vera e propria Wunderkammer, piccole camere delle meraviglie, tutte da scoprire, che entrano in dialogo con le suggestive sale della storica di Mora Teramana, tra pareti affrescate e suggestive vetrate. È una mostra che consentirà a molti non solo di ammirare l'interno del castello, che conserva una quantità davvero considerevole di dipinti murali realizzati da Della Monica, e poi appunto anche di elementi decorativi che ha realizzato a partire dal suo ritratto, Della Monica accoglie il visitatore del castello appunto già nella nicchia che è in fondo alla galleria d'ingresso, e poi di vedere appunto all'interno di questi ambienti mobili, arredi, armature, che come abbiamo potuto verificare grazie a alcune fotografie in bianco e nero fatte quando il castello era ancora arredato, non sono molto dissimili da quelle che si trovavano qui, quindi voglio dire siamo riusciti a ricreare in qualche modo l'aspetto che il castello doveva avere al tempo Della Monica portando da Milano, da una prestigiosa istituzione milanese, questi pezzi appunto che in qualche modo ritroviamo nelle fotografie in bianco e nero del castello.